ciao bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a parlare del modello stock to flow per cercare di rispondere a una domanda che mi avete fatto tempo fa nei commenti mi avete chiesto mauro ma il modello stock to flow ha smesso di funzionare dopo il crescio di bitcoin questo modello non è più significativo che cosa dobbiamo fare lo seguiamo non lo seguiamo cosa sta cambiando andiamo ad analizzare il modello stock to flow nelle sue formule ragazzi perché non ha molto senso poi vi rimando i link magari ve li andate a studiare io ovviamente le ho lette perché mi piace però ovviamente è un po lunga la questione della dimostrazione della formula dello stock to flow andiamo a vedere che cos'è questo modello che cosa fa e soprattutto cosa è cambiato negli ultimi anni sul modello stock to flow cosa bisogna tenere in considerazione e cosa potrà accadere nel futuro proprio su questo modello ragazzi per una evidenza empirica di quello che sta realizzando così ci andiamo a chiarire anche l'idea se bitcoin può avere in effetti questa fase di ripresa o meno come io stesso mi aspettano i prossimi nelle prossime settimane il nuovo ciclo annuale famoso oppure no ragazzi ok ma prima di andare andiamo a fare una cosa indominatevi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi lasciatevi i super pollici perché come sempre mi date una mano ragazzi ok e allora questo è il modello stock to flow ce l'ho già qui poi ragazzi volevo anche sapere se qualcuno di voi lo sta seguendo cosa ne pensa cosa non ne pensa intanto vi aggiorno un po con una idea generale di che cos'è questo un modello che è stato sviluppato da plan b ed è un modello matematico quindi natura quantitativa che si basa sulla proprietà della scarsità di bitcoin in pratica fa dipendere il valore di bitcoin da quello che è il la sua scarsità quindi dall albing e quindi in sostanza l'incremento dei price di bitcoin dipende dal fatto che è una asset che si riduce nel tempo o meglio l'inflazione dell'asset si riduce nel tempo perché comunque bitcoin è sempre un asset che si inflaziona però di una percentuale molto bassa nel tempo in quanto si trovano sempre meno bitcoin fino ai famosi 21 milioni dai 21 milioni in poi non ci sarà più modo di creare nuovi bitcoin quindi in base a questo concetto della scarsità è stato sviluppato il modello stop to flow di plan b che negli ultimi anni in sostanza ragazzi è stato abbastanza preciso nel indicare quella che è la famosa linea di trend di lungo periodo di bitcoin che è questa bluette che vedete insomma qui questa linea in sostanza è la linea del trend di bitcoin di lungo periodo che questo modello va a indicare come futuro come previsione futura proprio in base alla struttura della allora ragazzi fin qui tutto è ok tutto funziona tutto bello tutto lineare abbiamo fatto un modello matematico è corretto è un modello quantitativo tutti i dati sono assolutamente coerenti significativi e quant'altro è un ottimo modello che non si può dire assolutamente niente però c'è una problematica di natura empirica allora facciamo così per cercare di capire se effettivamente questo scostamento che è avvenuto per esempio in questa fase cioè proprio in questo momento vedete ragazzi uno scostamento del prezzo di bitcoin da questa lineetta blu che dovrebbe rappresentare il chiamiamolo fair value ok anche se è un azzardo diciamo in realtà non è un fair value comunque lo chiamiamo così il valore dato da questo da questo modello e c'è stato un distacco allora è un distacco naturale accettabile non accettabile oppure il modello sta smettendo di funzionare ho pensato di fare questo video in questo modo andiamo prima a capire con le evidenze empiriche cosa è cambiato nella storia di bitcoin e di questi anni rispetto a quello che il modello stock to flow aveva delineato cerchiamo di andare a capire cosa sta cambiando perché delle peculiarità sono abbastanza evidenti e poi sempre da un punto di vista empirico andiamo a disegnare cosa potrebbe accadere in futuro cioè quali altri cambiamenti il mercato delle cripto valute potrebbe avere rispetto a quello che il modello stop to flow rappresenta nel modello stop to flow indica per esempio ragazzi un punto di arrivo per questa fase scusate ragazzi ho fatto un ingrandimento lo ricalcolo immediatamente ok ci siamo allora ragazzi vedete in questo punto in pratica siamo anzi facciamo una cosa di zoom proprio tutto questo che è l'anno 2020 2021 vedete che in questa parte il mercato bitcoin si è scollegato dal modello stop to flow che prevedeva un prezzo standard in questo momento in questo periodo intorno ai 58 59 mila dollari poi il punto di arrivo per questa fase prima dell'eventuale poi nuovo ciclo dell'albin sarebbero i 100 mila dollari che dovrebbe essere un punto d'arrivo entro il famoso agosto del 2021 quindi da tra pochissimo tempo in pratica questo significherebbe ragazzi fare un x2 dagli attuali valori di bitcoin entro un paio di mesi allora io ci metterei la firma anzi facciamo anche un'altra cosa ok alcuni di voi me l'hanno chiesto hanno detto che da quando avevo perso il mio bitcoin non c'era siamo iniziati a crollare con bitcoin eccolo qua ragazzi sta qui lo tengo sempre sulla mia scrivania allora va bene magari fa una cosa del genere che ci mettiamo la firma però nel momento in cui andiamo ad analizzare questi dati che sono i punti di arrivo del modello stop to flow diciamo per tra qualche mese bisogna anche andare ad analizzare come gli effetti vedete come il modello stop to flow non è estremamente lineare ma ci mancherebbe una cosa del genere sarebbe assurdo quindi oscilla ragazzi oscilla non tantissimo ma abbastanza quindi anche vero che è possibile che magari nella struttura di questa fase se bitcoin dovesse arrivarci ci possa arrivare anche magari nei mesi successivi quindi non agosto eccetera così mi fa vincere la scommessa e sta sotto i 67 entro agosto vediamo vediamo ok vediamo se vinco io ho il modello va bene allora io preferisco non vincere così vi canto una canzone e ci facciamo una bella estate con bitcoin a 100k allora nel momento però in cui andiamo ad analizzare questi che sono dati di natura ragazzi empirici andiamo a fare anche alcune valutazioni per esempio che volevo farvi vedere allora la prima evidenza abbastanza chiara e che rispetto agli anni precedenti tutte le bolle cioè il distanziamento dei massimi di bitcoin rispetto alla linearità del modello stop to flow si sono ridotte perché se vedete tutte queste distanze cioè tutte le fasi di bolla di bitcoin si sono ridotte in base al modello stop to flow allora questa zona qui che era la prima bolla e nella metà del 2011 era abbastanza ampia poi quella del 2014 è stata più piccola di questa del 2011 infine quella del 2017 è stata ancora più piccola da qui la prima evidenza empirica anche naturale perché questo modello che assume la forma logaritmica quindi abbastanza logico le bolle del mercato si sono ridotte quindi la nascita di questo modello abbiamo visto un atteggiamento di bitcoin più maturo questa è la maturità famosa del mercato di cui tanto spesso parliamo e diciamo quando il mercato maturerà quando ci sono più stakeholder all'interno del mercato più partecipanti più giocatori all'interno del mercato il mercato e diminuirà di volatilità è vero e lo abbiamo visto in maniera chiara perché per esempio in maniera evidente rispetto a questo modello le bolle le punte di massimo del mercato rispetto alla distanza del modello si sono estremamente ridotte altra cosa che possiamo diciamo andare a controllare la distanza dei vari estremi ragazzi dal modello anche sulla parte bassa quindi non soltanto quella delle bolle ma anche quella delle parti basse del modello si sono o si stanno riducendo per esempio questa che era la fase più estrema dell'ultimo periodo e diciamo minore in questa parte qui che era la parte per esempio del covid quindi in questa zona qui della pandemia ragazzi vedete è più piccola di questa zona e più o meno queste erano simili in sostanza nella sua naturalità il modello sta enfatizzando di meno anche il crash questo significa cioè enfatizza di meno la parte alta ed enfatizza di meno la parte bassa questo un'ulteriore conferma di quello che ci siamo detti cioè la volatilità del mercato delle criptovalute è diminuita e sta diminuendo il mercato sta sempre più disegnando una specie di linea molto similare al modello stock to flow quindi molto più vicina alla linea blu rispetto a come ha fatto per esempio vedete nelle precedenti fasi dove era estremamente più volatile però qui la volatilità è molto più ampia qui è di meno e qui sembrerebbe essersi ulteriormente ridotta bene allora che cosa potrebbe accadere quindi in futuro per rispondere alla domanda se effettivamente il modello stock to flow è ancora valido o meno dobbiamo ragionare su due cose intanto l'evidenza empirica che abbiamo visto cioè riduzione di volatilità questa anche confermata dalla presenza per esempio degli istituzionali che sono sul mercato e anche dalla vicenda Elon Musk e della questione mining eccetera che si sta svolgendo proprio in questa fase perché questo momento è estremamente interessante da guardare proprio perché ancora una volta ragazzi al di girate cavolo di casino che hanno creato ok però in questo caso stanno ulteriormente mettendo un bollino verde su questo mercato che non assume più la forma di un mercato strano di gente così fuori di testa ma ancora una volta è il mercato dell'hype cioè il mercato del momento il mercato sul quale alcuni grandi del mondo devono riflettere su cosa fare aggiustiamo le mining portatele però a farle diventare green ragazzi questi non sono delle cose negative sono delle cose positive perché se ne parla di questo mercato e soprattutto lo si tende ad aggiustare cioè si tende ad andare a mettere subito i punti su lei e a dire ok bitcoin mi sta bene però bisogna spostare il mining il mining non va molto bene in quel caso lì perché consuma l'energia insomma c'è un po di dibattito intorno a questo mercato e questo gli conferisce ulteriormente il bollino ok verde e dice ok questo mercato figo mercato dobbiamo capire dove metterlo ma non abbandonarlo dobbiamo capire dove metterlo ok questo è il significato di questi di questi momenti quindi è interessante questa conferma degli istituzionali come abbiamo detto da inizio anno conferma anche la riduzione della volatilità che abbiamo visto empiricamente quindi è possibile che nei prossimi mesi anche anni questo modello dello stock to flow sia seguito magari dal mercato con una volatilità ancora più ridotta di quella che abbiamo visto nei mesi scorsi ciò significa che potrebbe essere veramente più lineare rispetto a prima cioè il mercato potrebbe fare meno bolle ragazzi nell'hype e meno ball meno dump nella parte bassa questo è un pro e un contro ognuno la sua opinione anzi fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi io sono un trader e per i trader la volatilità è la grande torta quindi più torta abbiamo meglio è ma non sono l'unico a dire questa cosa più grandi studiosi del mondo vi spiegano che la volatilità in un mercato è l'anima del mercato e che riduce i rischi di un mercato ok ragazzi vi potrei fare diversi nomi dei più grandi studiosi del mondo sull'argomento dove vi parlano che la volatilità è una cosa buona per i mercati non brutta comunque in ogni caso la volatilità non può che ridursi quando il mercato assume maggiore capitalizzazione e soprattutto ha un valore enorme per cui nel momento in cui io valgo 10 milioni di dollari ho una volatilità immensa nel momento in cui io valgo un trilione come bitcoin chiaramente ragazzi la volatilità si riduce perché la massa che sposta il mercato ovviamente è molto più importante quindi questa riduzione di volatilità io la darei per scontata nei prossimi mesi anni quindi la volatilità di bitcoin tenderà a ridursi ora andiamo a rispondere alla questione il modello stock to flow però verrà con diciamo seguito ancora oppure no perché questo è il discorso cioè il mercato si ridurrà la volatilità si staccherà dal modello stock to flow allora ragazzi qui bisogna fare un po' di punti in questione perché intanto facciamo ragionamento poi alla fine del video vi faccio vedere anche una serie di dati che vi spiegano il perché questo modello in questo momento non si sta distaccando quindi da se lo analizziamo ora un modello del genere è ancora valido ve lo faccio vedere proprio con dei dati tra pochi secondi ragazzi però prima ragioniamo sul fatto se un modello di questo tipo può continuare all'infinito e descrivere un mercato all'infinito come sta facendo in questo momento allora c'è una problematica solo una in sostanza che però è importante allora questo tipo di modello è rigido perché si basa su un concetto di una formula legata alla scarsità di bitcoin mentre non non tocca la questione legata all'adoption ragazzi sono due cose che in sostanza vanno di pari passo da certi punti di vista però sono anche complementari perché se da una parte c'è scarsità e dall'altra non c'è adoption non funziona bene devono esserci entrambe le cose va bene però nel momento in cui io vado a delineare un modello e quantitativamente lo irrigidisco con delle variabili che sono preconfezionate infatti il modello stock flow è rigido ragazzi non prevede in pratica un'oscillazione del mercato per questioni terze cioè per eventi straordinari o altro ok e questo significa che probabilmente verso la fine dei giochi un tipo di modello troppo rigido verrà abbandonato dal mercato perché perché i mercati non sono rigidi i mercati sono oscillano fluttuano e perciò è possibile che magari ci sia un cambiamento radicale all'interno di questa struttura di mercato e quindi quel mercato non vada più a seguire un modello che invece è stato costruito su dei valori dei oggettivi molto rigidi quindi questo è l'unico punto debole del modello stock to flow se vogliamo ragazzi cioè la rigidità che è proprio presente all'interno di questo modello e poi il fatto che non si accosta il concetto dell'adoption cioè il modello stock to flow esiste perché c'è la scarsità ma è seguito dal mercato perché c'è l'adoption quindi se non c'è l'adoption non c'è neanche il modello va bene sono entrambi i complementari quindi valutatele nell'insieme ora nell'attuale momento questo plan bill lo sa e infatti ha creato una banda una banda cioè ha inserito all'interno della volatilità sul suo stesso modello cioè gli ha dato quel movimento che vi sto dicendo che chiaramente non era presente nel modello iniziale ha creato questo ragazzi ok queste sono delle bande di oscillazione che sono state create in pratica al modello stock to flow e indicano come il mercato può stare all'interno della sua linea questa grigio che vedete che il modello stock to flow però può anche oscillarli intorno a destra e a sinistra e come vedete per esempio questi tipi di oscillazione variano ma variano veramente tantissimo man mano che il prezzo sale e si avvicina alle sue parti quelle stabili vedete queste zone qui questa zona qui è la zona stabile quindi sopra i 100 però nello stesso modello plan b indica che il mercato può stare in questa zona e in questa zona cioè andare in pratica a 20k oppure a qui sarà a 400 mila dollari ok lo so ragazzi ok quindi questa struttura di oscillazione è abnorme ragazzi ok questo è il problema dovuto alla rigidità che vi dicevo prima quindi questi modelli sono modelli matematici però la rigidità non gli consente cioè non ci consente di seguire questi modelli per avere un'idea della nostra profittabilità del nostro investimento questo è il problema perché il differenziale cioè la volatilità la deviazione standard chiamatela come volete di un modello del genere è ampia molto ampia e quindi queste strutture e ci fanno passare un investimento dall'essere milionari a aver fatto un investimento normale ok quindi è da un punto di vista poi empirico cioè di usabilità e la famosa media io mangio due polli tu ne mangi zero per la media ne abbiamo mangiato uno a testa ma ovviamente ragazzi uno è zero e l'altro è pieno di pollo quindi è bello grasso ok quindi non è esattamente facile seguire questi modelli per trarne del profitto questo è il concetto quindi di fondo ragazzi però c'è anche da dire che nell'attuale situazione il ribasso di bitcoin sta perfettamente nella prima pancia di volatilità che magari è quella un po' più consono ok diciamo che queste lineette queste azzurrine sono proprio degli eccessi in questo caso il mercato c'è arrivato vedete anche al ribasso nella fase del 2018 quindi alla chiusura della bolla del 2018 e in questi pezzettini al rialzo qui proprio aveva sporato segno appunto di quello che vi sto dicendo di un modello rigido che non riesce a trattenere il mercato proprio nelle sue eccentricità chiamiamole così o bolle come le volete chiamare allora in questa fase il modello stock to flow è ancora valido assolutamente sì il modello stock to flow può prevedere un rialzo in questa lineetta qui cioè 100k entro la fine dell'anno e ci indica che quello dovrebbe essere il suo per belio bitcoin potrà arrivare lì allora sì ragazzi ci può arrivare perché nel momento in cui noi abbiamo un modello lineare e abbiamo visto che la volatilità intorno a questa media si sta riducendo se questa cosa continua e dovrebbe continuare insomma non abbiamo elementi che neghino questa cosa allora probabilmente quel punto di 100 potrà essere raggiunto da bitcoin il problema è il tempo cioè non è detto che quel tipo di livello il mercato lo raggiunge effettivamente ad agosto perché perché potrebbe semplicemente star magari sotto su queste fasce per tanto tanto tempo e poi magari nel 2022 barra 2023 si avvicina a questa zona vedete e sta un po così e ci naviga qui siamo ragazzi al 2024 ci sono passati due anni ma un modello matematico così creato che fa un atteggiamento del genere resta e resterebbe ancora corretto ecco dov'è il problema di modelli di questo ragazzi ok abbiamo risposto alla domanda modello stock to flow è valido sì ancora è valido non è stato abbandonato dal mercato ma è anche un modello di difficile applicazione per quanto riguarda il concetto se il nostro investimento diventa profittevole o meno perché la distanza quindi le oscillazioni in base al punto medio dello stock to flow sono molto ampie sia in termini di pricing perché possiamo andare in bolle arriviamo a 250 mila sia in termini di tempo perché ad esempio il livello 100k che sarebbe un livello medio di questo del modello stock to flow può essere raggiunto anche con una distanza di più anni due tre anni ok molti di voi diranno sì ma io sono old e quindi due tre anni non sono un peso beh ragazzi non è per tutti la stessa cosa due tre anni sono due tre anni di vita è il tempo è la risorsa più importante che abbiamo cosa ne pensate ragazzi modello stock to flow sì o no a voi piace fatemelo sapere nei commenti come sempre ragazzi noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao